Per la stragrande maggioranza dei giovani ciò che si passa qui nel sinodo non li tocca veramente. Ma questo non deve scoraggiarci perché noi abbiamo da imparare con uno sguardo attento sui cambiamenti del mondo dei giovani. Quando lo vedo in Austria, anzitutto è l'insecurità del futuro. L'altro giorno una madre mi ha detto che le sue figlie di 16-17 anni hanno veramente paura del futuro, l'ecologia, la situazione lavorativa e dicono ai genitori in quale mondo ci avete messo. Queste domande le dobbiamo veramente ascoltare. Il contratto tra le generazioni è sempre stato un contratto di trasmissione. Adesso c'è il pericolo che quelli che hanno la posizione sicura, un lavoro sicuro, una pensione sicura, si chiudano. E i giovani, quando vedo quanti giovani vivono in lavori precari, mi immagino che non pochi di loro avranno anche reazioni di rabbia. Dunque, segni di solidarietà sono molto urgenti per essere insieme, perché viviamo insieme. Abbiamo una terra comune, una chiesa comune, un futuro comune. Dunque, ciò che ci vuole anzitutto è la solidarietà e il sentire profondo di ciò che vivono i giovani.